È stato un ponte dell'Immacolata da record per gli afflussi turistici nella città di Gubbio e nell'intero comprensorio, che ancora più che negli anni scorsi hanno visto un affollamento senza precedenti, che ha preso di mire in particolare il centro storico Gubbino e le aree di espansione. A trainare l'evento dell'accensione dell'albero dei record, ma anche tante altre attrattive che hanno caratterizzato l'intero ponte dell'Immacolata, è contribuito a prolungare la permanenza di migliaia di turisti. Tutto esaurito da tempo per gli esercizi dicettivi e per la ristorazione, dove trovare posto senza prenotazioni in questi giorni era di fatto impossibile. Noi abbiamo riscontri molto positivi, sì sì c'è turismo, c'è gente, c'è movimento, sì sì assolutamente. È a Gubbio oggi in questa giornata di grande turismo. Per portare i bambini, per fargli vedere il paese natalizio, l'albero più grande del mondo e fargli fare il trenino che parte tra dieci minuti. E siete appena arrivati e da dove venite? No, siamo arrivati ieri da Roma, ci siamo fermati a una notte qui. Bellissima, bellissima, io però già c'ero stata con mio marito. Cosa apprezza di più l'antichità, cosa? Beh, no, io sono venuta proprio per la parte, cioè per l'albero di Natale, quello più grande per far vedere a mio figlio, veramente. L'albero più grande del mondo. A fare la parte del leone accanto all'albero è stato anche quest'anno il raduno nazionale dei camperisti organizzato dal Camper Club Gubbio e tante associazioni di volontari chiamate a collaborare con la Polizia Municipale per la logistica di queste ore. Sono stati oltre 1200 i camper stimati a Gubbio in questo fine settimana e oltre 100 i bus turistici con un centro storico costantemente affollato e tantissimi turisti a godere del fascino delle luci dell'albero ma anche delle tante attrattive del format Gubbio è Natale. Suggestive le immagini dal drone che certificano una vera invasione di camper in tutte le aree disponibili da quella appositamente destinata a questa nicchia turistica a tutti i grandi parcheggi dell'Interland completamente invasi degli automezzi in arrivo da ogni parte d'Italia e anche dall'estero. Ma anche le immagini dalla funivia Colle Letto dove una coda continua contraddistinto l'intero weekend confermano la presenza massiccia di forestieri. Si parietto speciale l'8 dicembre per la seconda accensione dell'albero ad attivare il meccanismo accanto al presidente degli alberaioli Lucio Costantini è stato infatti Raffaele Iannuzzi lo storico direttore della rivista Plein Air specializzata per gli amanti del campeggio e del camper termine che lui stesso ha cognato alcuni decenni fa accolto dal presidente del camper club Pastorelli e dai membri del direttivo. Devo dire che per me è stato come un sogno vissuto in un sogno meraviglioso perché se penso che in questa terra meravigliosa splendida su questa montagna che è storia cultura religione e tradizione una persona un borghese come me un normale giornalista preme un tasto e si illumina devo dire lo dico con Quasimino con Ungaretti veramente mi sto illuminando d'immenso camper club di Gubbio spero che non mi sentano è veramente una sorta di miracolo perché io dal momento che li ho conosciuti conosco tutti quindi ho fondato io e pensa che la parola camper l'ho coniata io traducendo mare dall'inglese quanto li ho conosciuti ho capito una cosa che hanno un amore per la scelta del plein air e anche di plein air ma soprattutto del plein air che è una grande qualità della vita il successo riscontrato non è figlio del caso ma di un lungo e costante lavoro di coordinamento e promozione efficace e mirata con il comune in regia e la crescente collaborazione tra pubblico privato con operatori turistici ed esercenti in prima linea sottolineano all'unisono il sindaco stirati e l'assessore al turismo fiorucci l'ufficio turismo ha lavorato instancabilmente ha registrato un flusso continuo per informazioni di vario genere subissato da telefonati di richiesta di assistenza nella ricerca di posti letto registrando parcheggi stracolmi così come ristoranti e musei le diverse attrattive proposte dal progetto gubbio e natale curato dalla società land incaricata dal comune fanno ben sperare per tutto il periodo natalizio fino all'epifania visto il ricco menu di proposte la giunta sottolinea anche la positiva sinergia con le associazioni locali del settore ricettivo come federalberghi ost e ridium ma anche i sodalizi legati alla tradizione come gli sbandieratori e i balestrieri o le associazioni di quartiere che tra san martino e san pietro hanno organizzato i suggestivi presepi stirati non dimentica anche il ruolo svolto dalla regione che ha messo in evidenza nella campagna dell'offerta turistica proprio l'albero di natale di gubbio presente nelle gigantografie in tutte le principali stazioni ferroviarie italiane ed in altre forme in varie città italiane va in archivio un ponte da record ma la sensazione è che tutto il mese di dicembre sarà l'insegna delle liete sorprese